Dal 5 maggio in Sicilia, chiunque abbia compiuto 50 anni d'età potrà prenotare il proprio turno di vaccinazione contro il coronavirus. Lo ha comunicato il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci. Non possiamo continuare ad accumulare scorte di vaccino. Abbiamo 250.000 scorte di AstraZeneca nei nostri frigoriferi. Mentre la gente rischia il covid ogni giorno, rischia il contagio per non essersi ancora immunizzata. Abbiamo messo al sicuro il 10% dei siciliani. Dobbiamo adesso passare alle isole minori, soprattutto a quelle di frontiera e quindi parlo di Lampedusa e Linosa. In questo fine settimana vaccineremo quei cittadini dai 18 anni in su e poi passeremo alle altre isole. Intanto da domani si ricevono in Sicilia le prenotazioni per gli ultracinquantenni. Dobbiamo correre velocemente, dobbiamo sperare che i medici di medicina generale ci aiutino ancora di più nel vaccinare i più fragili, gli ultraottantenni, dei quali conoscono tutto, patologie e indirizzi e quindi che si schierino senza alcun tentennamento accanto a noi e andiamo avanti perché è giusto che entro l'estate la stragrande maggioranza dei siciliani possa essere messa al sicuro. Musumeci accelera quindi, nonostante il generale Figliuolo abbia chiarito che bisogna prima completare i vaccini per i fragili e gli ultraottantenni. Abbiamo atteso tre settimane, ha detto, da parte nostra non c'è alcuna volontà di essere disobbedienti ma dobbiamo correre altrimenti non ne usciremo più da questo tunnel. I vaccini che verranno somministrati saranno quelli previsti sulla base dell'anamnesi di chi si deve sottoporre al vaccino e non vi è una particolare convergenza su AstraZeneca che ha creato molto scetticismo in Sicilia nelle scorse settimane e del quale la regione possiede una scorta di circa 250.000 dosi rifiutate dalle persone.